Uno studio odontoiatrico associato SOA che fa del suo punto di forza la sinergia tra professionisti e l'uso di nuove e moderne tecnologie per le terapie odontoiatriche. Un'inversione di tendenza in un momento critico per l'economia cittadina che crea indotto e posti di lavoro. Sei postazioni all'interno di un ambiente ultramoderno ed accogliente per i clienti alle porte della città, all'interno della Galleria delle Arti di Preturo. Diversi professionisti impegnati in questa nuova avventura professionale che punta sull'Unione Fa La Forza. I dottori Massimo Frascaria, Davide Pietropaoli, Maurizio Damario, Stefania Mauro, Matteo Casinelli, Francesca Chella, Martina Verini, coadiuvati da igienisti, assistenti e segreteria. Un'esperienza innovativa e certamente vincente in una città che ha sempre più bisogno di sinergie di questo tipo. Tante persone infatti hanno voluto esserci nel giorno dell'inaugurazione per un augurio sincero ai protagonisti di questo nuovo viaggio. Grazie.